Il Paiolo Magico Harry ci mise diversi giorni ad abituarsi alla nuova strana libertà. Prima di allora non aveva mai potuto alzarsi quando voleva o mangiare quello che gli andava. Poteva perfino andare dove gli pareva, purché rimanesse a Diagon Alley, e dal momento che sulla lunga via acciottolata si affacciavano uno accanto all'altro i negozi di magia più affascinanti del mondo, Harry non provò il desiderio di mancare alla parola data a Fudge e di addentrarsi nel mondo babbano. Harry faceva colazione ogni mattina al Paiolo Magico, osservando gli altri ospiti, buffe streghette di campagna in città per un giorno di shopping, maghi dall'aspetto venerabile che discutevano l'ultimo articolo su trasfigurazione oggi, stregoni dall'aria selvatica, nani rauchi e una volta perfino una fattucchiera che ordinò un piatto di fegato crudo parlando attraverso un pesante passamontagna di lana. Dopo colazione Harry andava nel cortile sul retro, estraeva la bacchetta, colpiva il terzo mattone da sinistra sopra il bidone dell'immondizia e faceva un passo indietro, mentre nel muro si apriva il passaggio che portava a Diagon Alley. Trascorreva le lunghe giornate estive esplorando i negozi e mangiando sotto gli ombrelloni colorati fuori dai caffè, dove gli avventori si mostravano i loro acquisti. «È un lunascopio, vecchio mio! Basta perdere tempo con le carte lunari!» O discutevano il caso di Sirius Black. «Personalmente non permetterò a nessuno dei ragazzi di uscire da solo finché quello non torna al sicuro ad Azkaban!» Harry non doveva più fare i compiti sotto le coperte alla luce della torcia, ora poteva sedersi alla luce del sole. Fuori dalla gelateria Florian di Florian Fortescue a finire i compiti e a volte gli dava una mano Florian Fortescue in persona che oltre a sapere un sacco di cose sui roghi di streghe nel Medioevo gli serviva un gelato gratis ogni mezz'ora. Dopo aver riempito la borsa di galeoni d'oro, falci d'argento e zellini di bronzo ritirati dalla sua camera blindata alla Gringot Harry dovette esercitare un notevole autocontrollo per non spendere tutto in una volta. Solo continuando a ripetersi che lo aspettavano ancora cinque anni a Hogwarts e quanto sgradevole sarebbe stato dover chiedere ai Dursley il denaro per i libri di incantesimi riuscì a trattenersi dal comprare un magnifico set di gobiglie d'oro massiccio un gioco magico simile alle biglie in cui le sferette spruzzavano un liquido puzzolente sulla faccia dell'avversario quando perdeva un punto. Fu tremendamente tentato anche da un perfetto modellino semovente della galassia in una grande sfera di vetro che gli sarebbe servito per non dover seguire più nemmeno una lezione di astronomia ma la cosa che più mise alla prova la fermezza di Harry comparve nel suo negozio preferito accessori di prima qualità per il quidditch una settimana dopo il suo arrivo al paiolo magico. Curioso di scoprire che cosa attirasse la folla nel negozio Harry riuscì a sgusciare dentro e si infilò tra le streghe e i maghi eccitati finché non riuscì a scorgere un espositore nuovo di zecca nel quale troneggiava la scopa più bella che avesse mai visto. «È appena uscita, è un prototipo», disse un mago dalla mascella volitiva rivolto al suo vicino. «È la scopa più veloce del mondo, vero papà?», strillò un ragazzino più piccolo di Harry strattonando il braccio del padre. «Gli Irish International ne hanno appena ordinate sette», disse il proprietario del negozio alla folla. «E sono i favoriti alla Coppa del Mondo!» Una grassa strega davanti a Harry si spostò e così lui riuscì a leggere il cartello appeso sotto la scopa. Firebolt Questa scopa da corsa all'avanguardia è fornita di un raffinato aerodinamico manico di frassino trattato con vernice ad abantina e numerato a mano. I ramoscelli di betulla che formano la coda, selezionati uno per uno, sono stati sfrondati e lavorati fino ad aggiungere un perfetto design per offrire alla Firebolt un ineguagliabile equilibrio e una precisione millimetrica. «La Firebolt ha un'accelerazione da 0 a 250 km orari in 10 secondi, in dotazione un incantesimo frenante indistruttibile. Prezzo su richiesta!» Prezzo su richiesta! Harry preferì non pensare a quanto potesse costare la Firebolt. Non aveva mai desiderato nulla così ardentemente, ma non aveva mai perso una partita a Quidditch sulla sua Nimbus 2000 e a che cosa serviva vuotare la camera blindata alla Gringot per la Firebolt quando possedeva già un'ottima scopa. Non chiese il prezzo, ma tornò a vederla quasi tutti i giorni. Harry dovette comunque fare degli acquisti. Andò dallo speziale a rifornire le scorte di ingredienti per pozioni e dal momento che la sua divisa ormai si era accorciata parecchio andò da Madame Malkin abiti per tutte le occasioni e ne scelse una nuova. Ma soprattutto dovette comprare i libri, compresi quelli per le due nuove materie, cura delle creature magiche e divinazione. In libreria Harry ebbe una sorpresa. Invece della solita bella mostra di libri di incantesimi grandi come mattonelle con le scritte in oro, in vetrina c'era una grande gabbia di legno che conteneva un centinaio di copie del Libro Mostro dei Mostri. Pagine strappate volavano dappertutto, mentre i libri si azzuffavano fra loro, allacciati in furiosi combattimenti di lotta libera, schioccando aggressivi. Harry estrasse la lista dei libri dalla tasca e la lesse per la prima volta. Il Libro Mostro dei Mostri era nell'elenco come volume di testo per cura delle creature magiche. Ora Harry capiva perché Hagrid aveva scritto che si sarebbe rivelato utile. Si sentì sollevato. Allora Hagrid non aveva bisogno d'aiuto con qualche nuovo cucciolo terrificante. Mentre entrava al Ghirigoro, il proprietario li corse incontro. «Hogwarts?» gli chiese a bruciapelo. «Sei venuto a comprare i libri nuovi?» «Sì», disse Harry. «Ho bisogno...» «Spostati!» disse il libraio impaziente, spingendo Harry di lato. Si infilò un paio di guanti molto spessi, prese un grosso, nodoso bastone da passeggio e avanzò verso la porta della gabbia dei libri mostri. «Un momento», disse Harry in fretta. «Quello ce l'ho già!» «E' vero?» Sul viso del libraio apparve un'espressione di enorme sollievo. «Grazie al cielo! Mi hanno già morsicato cinque volte stamattina!» Si udì un rumore di pagine strappate. Due libri mostri ne avevano afferrato un terzo e lo stavano facendo a pezzi. «Basta! «Basta!»» gridò il libraio infilando il bastone tra le sbarre e dividendo i libri con un colpo deciso. «Non li terrò mai più! Mai più!» «È un manicomio!» «Credevo che avessimo toccato il fondo quando abbiamo comprato duecento copie del libro invisibile dell'invisibilità! Ci sono costate una fortuna e non le abbiamo mai trovate!» «Bah, ti serve altro?» «Sì!» disse Harry scorrendo la lista. «Mi serve svelare il futuro» di Cassandra Wablaski. «Ah, quest'anno cominci divinazione, eh?» disse il libraio sfilandosi i guanti e guidando Harry nel retrobottega dove c'era un angolo dedicato alla lettura del futuro. Un tavolino era carico di libri come «Prevedere l'imprevedibile, proteggetevi dai traumi» e «Sfera infrante, quando le sorti si rovesciano». «Ecco qui!» disse il libraio che si era arrampicato su una scaletta per prendere un grosso libro nero. «Svelare il futuro! Ottima guida a tutti i metodi base di divinazione! La lettura della mano, le sfere di cristallo, le viscere di uccello!» Ma Harry non lo ascoltava. Lo sguardo gli era caduto su un altro libro posato su un tavolino. «Presagi di morte! Che fare quando si prepara il peggio?» «Oh, io non lo leggerei se fossi in te» disse il libraio allegramente quando vide che cosa aveva attirato l'attenzione di Harry. «Cominceresti a vedere presagi di morte dappertutto! Ce n'è abbastanza per spaventare a morte chiunque, è proprio il caso di dirlo!» Ma Harry continuò a fissare la copertina. C'era un cane nero grosso come un urso, con gli occhi ardenti che lo fissavano. Aveva un'aria stranamente familiare. Il commesso mise a svelare il futuro tra le mani di Harry. «Nient'altro!» disse. «Sì!» disse Harry distogliendo gli occhi da quelli del cane e consultando la lista un po' stordito. «Ho bisogno di trasfigurazione livello intermedio e del manuale degli incantesimi volume terzo!» Dieci minuti più tardi Harry uscì dal ghirigoro con i libri nuovi sotto il braccio e fece ritorno al paiolo magico. Camminava come in trance e urtò parecchie persone. Salì le scale fino alla sua camera, entrò e fece scivolare i libri sul letto. Qualcuno era venuto a riordinare. Le finestre erano aperte e il sole entrava a fiotti. Harry sentiva gli autobus sfrecciare lungo la strada babbana alle sue spalle e il rumore della folla invisibile di sotto lungo Diagon Alley. Vide il proprio riflesso nello specchio sopra il lavandino. «Non poteva essere un presagio di morte!» disse in tono di sfida al suo doppio. «Ero già terrorizzato quando ho visto quella cosa in Magnolia Crescent. Probabilmente era solo un cane randaggio. Alzò la mano meccanicamente e cercò di appiattirsi i capelli. «Combatti una battaglia persa, caro!» disse lo specchio in un sibilo. Mentre i giorni passavano Harry prese a cercare Ronno e Ermione dappertutto. Molti studenti di Hogwarts arrivavano a Diagon Alley con l'inizio della scuola ormai così vicino. Harry incontrò Simus Finnegan e Dean Thomas due compagni di Grifondoro da accessori di prima qualità per il Quidditch dove anche loro occhieggiavano la Firebolt e fuori dal Ghirigoro incrociò Neville Longbottom un ragazzino tondo e distratto. Harry non si fermò a chiacchierare Neville a quanto pareva aveva perso la lista dei libri e sua nonna una vecchietta terribile lo stava sgridando. Harry sperò che non venisse mai a sapere che si era spacciato per Neville mentre tentava di sfuggire al Ministero della Magia. Harry si svegliò l'ultimo giorno delle vacanze pensando che almeno avrebbe incontrato Ron e Ermione il giorno dopo sull'Hogwarts Express. Si alzò si vestì andò a dare un'ultima occhiata alla Firebolt e stava pensando a dove pranzare quando qualcuno lo chiamò costringendolo a voltarsi. Harry Harry erano lì tutti e due seduti a un tavolino della gelateria di Florean Fortescue. Ron era incredibilmente lentigginoso Ermione molto abbronzata e tutti e due lo salutavano freneticamente con la mano. Era ora disse Ron sorridendo a Harry che prendeva posto al loro tavolo. Siamo andati al Paiolo Magico ma ci hanno detto che è riuscito e poi al Ghirigoro e da Madame Malkin e... Ho comprato tutte le cose per la scuola la settimana scorsa spiegò Harry. Come facevate a sapere che sto al Paiolo Magico? Papà disse Ron semplicemente. Il signor Weasley che lavorava al Ministero della Magia doveva aver sentito tutta la storia di zia Marge. Hai davvero gonfiato tua zia Harry? chiese Ermione in tono molto serio. Non volevo rispose Harry mentre Ron scoppiava a ridere. È che ho perso il controllo. Non c'è niente da ridere Ron disse Ermione seccamente. Davvero mi stupisco che Harry non sia stato espulso. Anch'io ammise Harry a parte l'espulsione credevo che mi avrebbero arrestato guardò Ron. Tuo padre non sa perché Faggio mi ha lasciato andare. Probabilmente perché sei tu no? disse Ron scrollando le spalle con un'ultima risatina. Il famoso Harry Potter eccetera eccetera preferisco non sapere che cosa farebbe a me il Ministero se gonfiassi una zia. Comunque dovrebbero prima tirarmi fuori dalla fossa perché mamma mi ucciderebbe di sicuro. Puoi sempre chiederlo direttamente a papà stasera. Anche noi dormiamo al Paiolo Magico così domattina possiamo andare insieme a King's Cross e c'è anche Ermione. Ermione annui sorridendo. I miei mi hanno accompagnato qui stamattina con tutte le mie cose per Hogwarts. Ottimo disse Harry allegro allora avete già tutti i libri nuovi e il resto? Guarda un po' disse Ron estrasse da una borsa una lunga scatola piatta e l'aprì. Bacchetta nuova di zecca quattordici pollici legno di salice con un crine di coda di unicorno incorporato e abbiamo tutti i libri disse indicando una grossa borsa sotto la sedia. Forti quei libri mostri eh? Il commesso si è quasi messo a piangere quando gli abbiamo detto che ne volevamo due. E quelli cosa sono Ermione? chiese Harry indicando non una ma tre borse stracolme sulla sedia accanto a lei. Quest'anno seguirò più corsi di te dichiarò Ermione. Sono i libri per aritmanzia cura delle creature magiche divinazione antiche rune babbanologia perché anche babbanologia chiese Ron sgranando gli occhi tu sei di famiglia babbana i tuoi genitori sono babbani sai già tutto dei babbani ma sarà affascinante studiarli dal punto di vista dei maghi disse Ermione entusiasta. hai intenzione anche di mangiare e dormire ogni tanto quest'anno Ermione? chiese Harry mentre Ron ridacchiava. Ermione fece finta di niente. Ho ancora dieci galeoni disse controllando il portafogli. In settembre compiò gli anni e mamma e papà mi hanno dato dei soldi perché mi comprassi un regalo in anticipo. Un bel libro magari? chiese Ron con fare innocente. no non credo rispose Ermione seria vorrei proprio un gufo voglio dire Harry ha Edvige e tu hai Errol non è mio disse Ron Errol è il gufo di casa io ho solo Crosta estrasse il suo topo dalla tasca e voglio fargli dare un'occhiata aggiunse deponendo Crosta sul tavolo temo che l'Egitto non gli abbia fatto troppo bene. Crosta era più magro del solito e i baffi gli ricadevano flosci c'è un negozio di creature magiche proprio laggiù disse Harry che ormai conosceva Diagon Alley come le sue tasche tu potresti vedere se hanno qualcosa per Crosta e Ermione può comprarsi il suo gufo così pagarono i gelati e attraversarono la strada fino al serraglio stregato non c'era molto spazio all'interno tutte le pareti erano tappezzate di gabbie c'era uno strano odore e un gran fracasso perché gli ospiti delle gabbie strillavano squittivano borbottavano e sibilavano tutti insieme la strega dietro il bancone stava dando dei consigli a un mago su come allevare i tritoni a due code così Harry Ron e Ermione aspettarono il loro turno osservando le gabbie due enormi rospi violetti dall'aria bavosa si stavano facendo una scorpacciata di tafani morti una tartaruga gigante con il carapace tempestato di pietre preziose luccicava vicino alla finestra parecchie lumache velenose di colore arancione strisciavano lente su per la parete del loro terrario di vetro e un grasso coniglio bianco continuava a trasformarsi in un cappello a cilindro e poi di nuovo in coniglio accompagnando ogni metamorfosi con uno schiocco secco poi c'erano gatti di tutti i colori una rumorosa gabbia di corvi un cestino di buffe palle di pelo color crema che ronzavano forte e sul bancone una grande gabbia piena di lustri topi neri che giocavano a saltare la corda con le lunghe code glabre il mago del tritone a due code uscì e ron si avvicinò al bancone è per il mio topo disse alla strega è un po' giù di tono da quando siamo tornati dall'egitto mettilo qui sopra disse la strega ed estrasse dalla tasca un paio di occhialoni neri ron prese crosta dalla tasca interna della giacca e lo posò vicino alla gabbia dei topi che smiselo di saltare e si affollarono contro la rete per vedere meglio come quasi tutte le cose di ron il topo crosta era di seconda mano prima era appartenuto al fratello di ron persi e un po' sciupato vicino ai lucidi topi della gabbia sembrava particolarmente abbacchiato disse la strega sollevando crosta quanti anni ha non lo so rispose ron deve essere vecchio era di mio fratello che poteri ha chiese la strega osservando crosta da vicino ehm disse ron la verità era che crosta non aveva mai mostrato la minima traccia di qualche potere interessante la strega spostò lo sguardo dall'orecchio sinistro del topo che era tutto smuzzicato alla zampa anteriore a cui mancava un dito e fece un verso di disapprovazione ne ha viste delle belle questo qua esclamò era così quando persi me l'ha passato disse ron sulla difensiva un topo ordinario comune o da giardino come questo non può vivere più di tre anni disse la strega se cerchi qualcosa di più resistente forse ti potrebbe andar bene uno di questi e indicò i topi neri che subito ricominciarono a saltare esibizionisti mormorò ron beh se invece non vuoi sostituirlo puoi provare con questo sciroppo ratto disse la strega estraendo una bottiglietta rossa da sotto il banco d'accordo disse ron quanto aia ron barcollò dalla sommità della gabbia più alta qualcosa di grosso e arancione era piombato sulla sua testa per poi lanciarsi verso crosta soffiando furiosamente no glatta stinchino gridò la strega ma crosta le guizzò via dalle mani come una saponetta atterrò a pelle d'orso sul pavimento e poi filò verso la porta crosta gridò ron schizzando a sua volta fuori dal negozio harry lo seguì impiegarono quasi dieci minuti per riprendere crosta che si era rifugiato sotto un cestino della carta straccia davanti ad accessori di prima qualità per il quidditch ron si ficcò in tasca il topo tremante e si alzò massaggiandosi la testa che cos'era o un grosso gatto o una tigre piccola disse harry dov'è ermione probabilmente si sta comprando il gufo ripercorsero la strada affollata fino al serraglio stregato ermione stava uscendo dal negozio ma non con un gufo teneva ben stretto l'enorme gatto rosso hai comprato quel mostro chiese ron a bocca spalancata è magnifico vero questione di gusti pensò harry il gatto aveva un bel pelo fulvo e soffice ma le zampe erano decisamente storte e il muso era imbronciato e un po' schiacciato come se il suo proprietario si fosse schiantato contro un muro ora che crosta non era in vista comunque il gatto faceva le fusa soddisfatto tra le braccia di ermione ermione quella cosa mi ha quasi tirato via lo scalpo disse ron non l'ha fatto apposta vero grattastinchi disse ermione è crosta disse ron indicando il rigonfiamento nella tasca della giacca ha bisogno di riposo e di quiete come farà con quella cosa in giro a proposito hai dimenticato lo sciroppo ratto disse ermione e porse a ron la bottiglietta rossa smettila di preoccuparti grattastinchi starà nel mio dormitorio e crosta nel tuo dov'è il problema povero grattastinchi la strega ha detto che ce l'aveva in negozio da un secolo nessuno lo voleva chissà perché commentò ron sarcastico e i tre si diressero al paiolo magico dopo aver recuperato le borse con i libri il signor weasley era al bar a leggere la gazzetta del profeta harry disse con un sorriso alzando lo sguardo come stai bene grazie disse harry mentre lui ron e ermione si sistemavano con tutti i loro acquisti il signor weasley mise da parte il giornale e harry vide il viso ormai familiare di sirius black che lo guardava non l'hanno ancora preso allora chiese no rispose il signor weasley in tono molto serio al ministero ci hanno dispensato dagli incarichi ordinari per concentrarci tutti sulle ricerche ma finora non abbiamo avuto fortuna c'è una ricompensa se lo prendiamo chiese ron non sarebbe male un po' di soldi non essere ridicolo ron disse il signor weasley che da vicino appariva molto stanco e teso black non si farà prendere da un mago di tredici anni saranno le guardie di askaban a riacciuffarlo vedrete in quel momento entrò la signora weasley carica di borse e sacchetti seguita dai gemelli fred e george che stavano per cominciare il quinto anno a hogwarts dal neo eletto caposcuola persi e dalla più piccola della famiglia l'unica femmina ginny ginny che aveva da sempre una grande passione per harry fu ancora più imbarazzata del solito quando lo vide probabilmente perché lui le aveva salvato la vita l'anno prima a hogwarts diventò tutta rossa e mormorò ciao senza guardarlo persi invece gli tese la mano con solennità come se lui e harry non si conoscessero e disse harry che piacere vederti ciao persi replicò harry cercando di non ridere spero che tu stia bene disse persi pomposo stringendogli la mano era un po' come essere presentati al sindaco molto bene grazie harry esclamò fred dando una gomitata a persi per toglierlo di torno e facendo un profondo inchino è semplicemente magnifico vederti ragazzo meraviglioso disse george spingendo fred da una parte afferrando la mano di harry assolutamente splendido persi li guardò storto ora basta disse la signora weasley mamma esclamò fred come se l'avesse vista solo in quell'istante e poi afferrandole la mano è fantastico vederti ho detto basta così disse la signora weasley depositando i sacchetti su una sedia vuota buongiorno erri caro hai sentito la bella novità vero indicò il distintivo d'argento nuovo di zecca appuntato sul petto di persi è il secondo caposcuola in famiglia disse orgogliosa e l'ultimo mormorò fred tra i denti non ne dubito disse la signora weasley improvvisamente accigliata voi due non siete diventati prefetti a quanto ne so e perché dovremmo chiese george inorridito alla sola idea toglierebbe tutto il gusto ginny ridacchiò dovreste dare il buon esempio a vostra sorella esclamò la signora weasley ginny ha altri fratelli che possono darle il buon esempio mamma disse persi altezzoso salgo a cambiarmi per la cena scomparve su per le scale e george sospirò abbiamo cercato di chiuderlo in una piramide disse a harry ma la mamma ci ha scoperti la cena fu molto piacevole tom loste uni tre tavoli nel salottino e i sette weasley harry e ermione consumarono insieme cinque deliziose portate come facciamo ad andare a king's cross domattina papà chiese fred mentre attaccavano un sontuoso budino al cioccolato il ministero ci presta un paio di macchine disse il signor weasley tutti lo fissarono perché chiese persi incuriosito è per te pers disse george serissimo e ci saranno tante bandierine sul cofano con scritto sopra gz che vuol dire gran succone completò fred tutti ridacchiarono nel budino tranne persi e la signora weasley perché il ministero ci dà le macchine papà chiese di nuovo persi in tono austero beh siccome noi non ce l'abbiamo più spiegò il signor weasley e visto che lavoro per loro ci fanno questo piacere la sua voce suonava normalissima ma harry non pote fare a meno di notare che le orecchie del signor weasley erano diventate rosse proprio come succedeva a ron quando era nervoso e meno male esclamò seccamente la signora weasley ma avete visto quanti bagagli avete tutti quanti sareste proprio un bello spettacolo sulla metropolitana babbana avete fatto tutte le valigie vero ron non ha ancora messo nel baule le cose nuove che ha comprato disse persi in tono di sopportazione le ha accatastate tutte sul mio letto sarà meglio che tu vada a fare i bagagli come si deve ron perché domattina non avremo molto tempo disse la signora weasley ron lanciò un'occhiata torva a persi dopo cena tutti erano sazi e sonnolenti uno dopo l'altro salirono nelle loro camere a controllare che tutto fosse in ordine per il giorno dopo ron e persi dormivano nella stanza accanto a quella di harry quest'ultimo aveva appena chiuso a chiave il suo baule quando sentì un'esplosione di voci dall'altra parte della parete incuriosito andò a vedere che cosa succedeva la porta della 12 era spalancata e persi gridava era qui sul comodino l'ho tirato fuori per lucidarlo io non l'ho toccato va bene urlò di rimando ron che cosa succede chiese harry il mio distintivo da caposcuola è sparito disse persi anche lo sciroppo ratto di crosta disse ron lanciando una serie di oggetti fuori dal suo baule forse l'ho lasciato giù al bar tu non vai da nessuna parte finché non salta fuori il mio distintivo strillò persi vado io a prendere la roba per crosta ho già finito con i bagagli disse harry a ron e scese le scale era a metà del corridoio verso il bar a quell'ora molto buio quando sentì altre due voci concitate provenire dal salottino un attimo dopo le riconobbe erano quelle dei signori weasley esitò non voleva che lo scoprissero ad ascoltarli mentre litigavano ma quando sentì pronunciare il suo nome si fermò e si avvicinò alla porta non ha senso non dirglielo stava dicendo il signor weasley in tono accalorato harry ha il diritto di sapere ho cercato di spiegarlo a fudge ma lui insiste nel trattare harry come un bambino ha tredici anni e arthur la verità lo spaventerebbe troppo disse la signora weasley con voce acuta vuoi davvero che torni a scuola con un peso del genere per l'amor del cielo può essere solo felice di non saperlo non voglio spaventarlo voglio metterlo in guardia ribatte il signor weasley lo sai come sono fatti harry e ron sempre in giro per conto loro sono entrati due volte nella foresta proibita ma harry quest'anno non deve farlo assolutamente quando penso a cosa gli sarebbe potuto succedere la notte che è scappato di casa se il nottetempo non gli avesse dato un passaggio scommetto che sarebbe stato ucciso prima che il ministero lo ritrovasse ma non è morto sta benissimo e allora spiegami perché molly dicono che sirius black è pazzo e forse lo è ma è stato abbastanza furbo da fuggire da azkaban e questo dovrebbe essere impossibile è passato un mese e nessuno ne ha visto l'ombra e non mi importa quello che faggi continua a ripetere alla gazzetta del profeta non siamo più vicini alla cattura di black che all'invenzione delle bacchette auto incantanti la sola cosa che sappiamo per certo è ciò che black sta cercando ma harry sarà assolutamente al sicuro a hogwarts credevamo che azkaban fosse un posto assolutamente sicuro se black è riuscito a fuggire da azkaban può anche penetrare a hogwarts ma nessuno ha la certezza che black stia cercando harry si udì un tonfo di certo il signor weasley aveva battuto il pugno sul tavolo molly quante volte te lo devo ripetere non era scritto sui giornali perché faggio ha voluto che non si sapesse ma faggio è andato ad azkaban la notte della fuga di black le guardie gli hanno detto che black negli ultimi giorni parlava nel sonno diceva sempre le stesse cose è a hogwarts è a hogwarts black è incontrollabile molly e vuole harry morto secondo me è convinto che l'assassinio di harry riporterà al potere tu sai chi black ha perso tutto la notte in cui harry ha fermato tu sai chi e ha avuto dodici anni di solitudine ad azkaban per rimuginarci sopra cadde il silenzio harry si avvicinò alla porta ansioso di saperne di più beh arthur devi fare quello che ritieni giusto ma dimentichi albus silente non credo che possa succedere niente a harry finché silente il preside sa tutto immagino ma certo abbiamo dovuto chiedergli il permesso di disporre le guardie di harzkaban attorno alla scuola non era felice ma ha accettato non era felice perché non dovrebbe esserne felice se sono lì per catturare black a silente le guardie di haskaban non piacciono disse il signor weasley e nemmeno a me se è per quello ma quando si ha a che fare con un mago come black a volte bisogna allearsi con forze da cui sarebbe meglio tenersi lontano se servono a salvare harry allora non dirò mai più una parola contro di loro disse il signor weasley stancamente è tardi molly andiamo di sopra harry sentì muoversi le sedie più silenziosamente possibile corse lungo il corridoio fino al bar la porta del salottino si aprì e qualche istante dopo un rumore di passi disse a harry che i weasley stavano salendo le scale lo sciroppo ratto era sotto il tavolo della cena harry attese finché non sentì chiudersi la porta della camera dei weasley poi prese il fraconcino e andò di sopra fred e george erano nascosti nell'ombra del pianerottolo e si rotolavano dalle risate mentre persi smantellava la sua camera alla ricerca del distintivo ce l'abbiamo noi sussurrò fred a harry l'abbiamo migliorato ora sul distintivo c'era scritto su caposcuola harry scoppiò in una risata forzata consegnò la boccetta a ron si chiuse in camera e si distese sul letto e così sirius black lo stava cercando questo spiegava tutto fudge aveva chiuso un occhio con lui perché era contento di trovarlo vivo gli aveva fatto promettere di rimanere a diagonale dove c'erano un sacco di maghi a tenerlo sotto controllo e mandava due auto del ministero per portarli alla stazione il giorno dopo in modo che i weasley potessero sorvegliarlo finché non fosse salito sul treno harry rimase disteso ad ascoltare le grida soffocate nella camera accanto e a chiedersi perché si sentisse così poco spaventato sirius black aveva ucciso tredici persone con un'unica maledizione i weasley erano convinti che harry sarebbe stato preso dal panico se avesse saputo la verità ma harry era d'accordo con la signora weasley il posto più sicuro del mondo era quello dove si trovava albus silente non dicevano tutti che silente era l'unica persona di cui voldemort avesse mai avuto paura ti sicuro black il braccio destro di voldemort lo temeva allo stesso modo e poi c'erano le guardie di azkaban di cui tutti parlavano pareva potessero fare impazzire la gente di paura e se si piazzavano attorno alla scuola le probabilità che black riuscisse a entrare sembravano molto remote no tutto sommato la cosa che più turbava harry era che la possibilità di andare a hogsmeade era ormai ridotta a zero nessuno gli avrebbe permesso di allontanarsi dal castello l'unico posto sicuro finché black non fosse stato catturato in effetti harry sospettava che ogni suo movimento sarebbe stato strettamente sorvegliato fino alla fine dell'emergenza fissò imbronciato il soffitto buio credevano che non sapesse badare a se stesso era sfuggito tre volte a voldemort quindi non era proprio una frana non richiesta l'immagine della bestia nell'ombra di magnolia crescent gli attraversò la mente che fare quando si prepara il peggio nessuno sta per uccidermi disse harry ad alta voce è così che si fa caro commentò lo specchio assonnato